1, 2, 3, prova. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 24 anni, abitante ad Avigliana, per il suo possesso di droga. Lunedì mattina a Trana, in via Roma, i militari dell'arma, impegnati nei controlli anti-covid, hanno notato una persona molto agitata che si guardava intorno con nervosismo. I carabinieri della stazione di Avigliana si sono avvicinati per chiedere i documenti. L'uomo ha dichiarato di essere un postino fuori servizio, ma a suo atteggiamento ha convinto i militari dell'arma a perquisire sia lui che la sua abitazione, anche perché nei giorni scorsi avevano saputo di un postino specializzato anche nella vendita di droga. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un quaderno contenente appunti e la contabilità riconducibile all'attività di spaccio, oltre a una scacciacani priva di tappo rosso con relative a 19 munizioni. In particolare, buona parte dello stupefacente è stato trovato all'interno di alcuni barattori presenti nella camera da letto, mentre circa 25 grammi sono stati trovati già sigillati all'interno di un plico postale pronto per essere spedito a un acquirente. Il giovane, che lavora come postino alle dipendenze di una ditta privata incaricata delle consegne per conto di diversi uffici delle poste italiane della zona, è stato arrestato. Poste italiane e strane al fatti.